Due importanti eventi mettono in primo piano il liceo classico Zingarelli di Cirignola. Il primo appuntamento è previsto intorno alle 17, dove ci sarà l'inaugurazione del corso di mediazione familiare sistemica, realizzato in collaborazione con l'istituto Metafora di Bay. Il corso è finalizzato alle applicazioni pratiche nei differenti contesti, dove è richiesto un intervento di mediazione di conflitti, in particolare nel settore scolastico. Altro prestigioso appuntamento è quello in programma alle 19, nell'aula magna del liceo, per la decima edizione del certame letterario Nicola Zingarelli. L'appuntamento è importante quest'anno, dove tra poesie conviviali e memorie sulla mensa dei latini ci saranno anche delle cose interessanti. Ad esempio una degustazione di ricette originali dell'antica Roma, il libero adattamento di un invito a cena, la vista del palato dell'antica gastronomia romana e una mostra fotografica di Giulia Di Michele e Giuliana Massaro. Poi naturalmente ci sarà anche la premiazione di questo importante appuntamento.